buongiorno ciao luna saluta di bentornati in un nuovo vlog ciao lunotta buongiorno a tutti bentrovati sul canale oggi nuovo video nuovo vlog come già anticipato da luna pochi secondi fa scusate per la luce ma c'è luna che sta giocando un po con la tenda basta che non tiri i fili brava e c'è il sole proprio che sta sorgendo in questo momento e quindi c'è un po questa atmosfera molto luminosa suave e nulla oggi sono da sola quindi ho pensato di fare un vlog per tenerci un po di compagnia spero che vi faccia piacere e mi sono già vestita preparata ho già sistemato casa sono comunque le nove e mezza passate quindi non è non è prestissimo io sono già sveglia da un po e niente ho fatto skin care proprio velocissima mi sono data una truccata ma poi mi devo anche lavare i capelli quindi insomma tanto devo andare dove devo andare in biblioteca mi porterò con me in biblioteca perché devo restituire dei libri e ovviamente già che sono lì ne prenderò anche altri quindi sarà una mattinata proprio dedicata a me e ai libri e quindi niente poi vi mostro i libri che vado a restituire e dopo dopo vi mostrerò i libri che invece ho preso in prestito e ma ma parentesi beauty non ho nulla di che da mostrarmi ma ieri mi è arrivato questo siero ce l'ho acquistato su amazon perché era in super offerta alla vitamina c della garnier l'ho utilizzato sia ieri sera che oggi e mi sta piacendo insomma per il momento mi sta piacendo ma mi sa che avevo già provato qualcosa del genere ancora il primo siero che era uscito sempre alla vitamina c ma non era questo comunque aspettate un secondo solo che ci sono riposato un attimo la mano perché in realtà è tipo il quinto tentativo di inizio video e niente sto utilizzando questo l'ho prime prime impressioni buone insomma è molto leggero la mia idea era di appunto prenderlo visto che stava arrivando il periodo caldo ma invece il periodo caldo c'è stato solo per una settimana 10 giorni forse in cui c'erano troppo caldo per i miei gusti io già stavo morendo c'erano tipo 30 gradi 25 gradi no per me per me è già troppo infatti adesso le temperature si sono riabbassate stamattina credo ci siano una decina di gradi neanche tutti si lamentano io sono la persona più felice del mondo perché così vuol dire che temporeggia lasciamo ancora un po di freddo dai era troppo presto per il caldo per me potrebbe proprio non venire però so che deve ma aspettiamo un attimino infatti sono felicissima e tutto questo per dire che l'avevo preso da utilizzare da solo ma in realtà sto applicando sopra anche la crema viso perché appunto fa comunque freddino quindi sento proprio il bisogno e oltretutto ho le labbra che sono c'è proprio adesso magari non lo vedete voi ma sono secchissime proprio spaccate mi facevano male stamattina e quindi sono andata del mio amato connettivina stick labbra adesso con questa luce non si vedrà nulla che è fantastico ve l'ho già parlato di questo se avete labbra secche ma proprio screpolate spaccate che vi fanno male soprattutto appunto in inverno così questo prendetelo perché è miracoloso non avrà un inci bio o verde ma vi sistema tutto la qualunque e niente detto ciò io adesso vi mostro i libri che vado a restituire fra poco insomma e vi porto con eccoci qua scusate la lavastodiglia in sottofondo ma ho dovuto accenderla allora vabbè io la mia sempre la mia borsina fidata questa qua è quella che uso per la biblioteca solitamente di adelfi ovviamente per rimanere in tema i libri che vado a restituire sono questo ma ve lo fate vedere anche nell'altro video che non ho letto però allora questo qui l'avevo preso in realtà perché ne volevo prendere un altro della stessa autrice che è cose che non si raccontano ma non c'era non era disponibile perché era già in prestito per da un'altra persona insomma quindi avevo preso questo ma in realtà poi ho recuperato il libro che volevo in audiolibro e quindi tra l'altro bellissimo l'ascolto ma ne parliamo dopo che farò anche un piccolo aggiornamento letture e quindi questo è rimasto un po lì e non credo che lo insomma per il momento ecco non mi interessa più tanto era solo che volevo leggere qualcos'altro di questa autrice perché mi sta piacendo molto e però adesso delle letture in corso che mi ispirano di più altre che vorrei fare insomma prima di questa quindi ho sempre tempo per andare a riprenderle eventualmente quindi questo qua lo restituiamo in un letto questo lo restituiamo letto e assolutamente non piaciuto ma ne parleremo nel video dedicato alle letture ma questa proprio è stata una lettura è piccolissimo è io ho detto ma sì dai sarà un libricino carino breve no 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 è stato un breve ma un mattone per quanto mi riguarda e troppo filosofico non mi è proprio piaciuto mi dispiace ma mi ha annoiato tantissimo poi invece questo wayward che ho letto è stato il primo libro che ho letto di cui tra questi qui insomma presi in prestito questo mi è piaciuto molto carino forse un po scontato in certi punti cioè non è secondo me nulla di nuovo però di intrattenimento insomma scorrevole volete sapere come va a finire la storia carino e poi questo che restituisco letto a metà adesso non so se ho tolto il segno sì perché anche questo è pesante allora in realtà la matica è un po nelle mie corde perché si parla di un di un amore tossico di una donna nei confronti di un uomo insomma tossico perché lei è praticamente dipendente da questa persona ma il modo in cui è scritto è troppo pomposo troppo non lo so ha troppi fronzoli boh mi risulta un po pesantino infatti sì l'ho portato fino a metà però vi dico che non mi interessava neanche tanto sapere come potesse andare a finire questa storia e proprio lo stile ecco non non mi è piaciuto e non mi ha preso quindi lo riportiamo indietro adesso io imbusto tutto e niente ci vediamo fra poco in realtà eccoci allora diretto in biblioteca fatto io sono sempre contentissima quando vado in biblioteca c'è per me una sorta di terapia e anche in questo periodo che ho un po di pensieri per il lavoro insomma un po di ansiette devo dire che questa mezz'oretta di biblioteca sono mezz'oretta sono stata brava mi ha proprio aiutato a staccare poi è un bel ambiente silenzioso pieno di libri mi sono persa tra le corsie insomma ho fatto ho girato anche qualche clip che probabilmente avrete già visto ma non tantissimo cioè non ho registrato tantissimo ecco proprio due riprese in croce però che bello l'ambiente della biblioteca sono veramente felice di averlo riscoperto quest'anno perché l'avevo proprio accantonato e invece mi piace troppo mi non so mi gasa mi ricarica e quindi niente adesso torno più rilassata di prima poi nella nel frattempo mentre venivo a casa insomma ero a piedi ho fatto anche due cosine di spesa proprio due in croce in un piccolo supermercato che ho sulla via di casa e nulla mi vedete in questa postazione perché dopo vorrei registrare il video sulle letture di febbraio super ritardo come sempre come sempre ma pian piano arrivo quindi insomma ho già preparato tutto così sono già pronta prima però penso che pranzerò ho tirato fuori dal freezer il ragù di verdure mi farò un piatto di pasta con quello allora ma torniamo a noi torniamo a parlare di libri e sto guardando aspettate quindi parto da quelli che ho preso in prestito dalla biblioteca sono quattro libri allora aspettate dunque il primo che ho proprio preso senza pensarci è di Joyce Carol Oates una brava ragazza allora nella mia biblioteca della mia non è la mia nella biblioteca di della mia città insomma di arco c'è veramente una vastissima scelta di libri di questa autrice e sono super contenta scusate se specchia un po ma è ovviamente plastificato c'è la copertina la copertina come si chiama sì la vabbè questa plastichina e appunto volendola io scoprire come autrice sono veramente contenta di avere così un vasto assortimento in biblioteca così non devo insomma magari comprare libri recuperarli li prendo da lì e li leggo e poi insomma so che ce ne saranno almeno una secondo me una ventina lei ha scritto tantissimo per carità però veramente tanti e niente questo qui era mi ispirava il titolo ho letto un pochino la trama e aspettate che guardiamo ma vi faccio vedere anche comunque il font all'interno direi medio edito bonpiani ora io non so se ci siano ancora questi libri o siano fuori catalogo non vi sto dire assolutamente nulla comunque qua ci dice che dovrebbe essere una sorta di storia d'amore insomma che nasce tra una ragazza che fa la babysitter e un uomo forse più vecchio di lei ma qua quello che mi ha convinto è ciò che viene detto alla fine una brava ragazza un racconto ambiguo inquietante in grado di coinvolgere il lettore trascinandolo con crescente suspense nell'oscurità dell'anima umano oggi mi impapino e quindi niente l'ho preso insomma vediamo un attimino come sarà vi dirò poi poi giro vagando per le corsie ho trovato anche lì un vasto assortimento di libri di mauro corona e ho voluto prendere i misteri della montagna perché la copertina è bellissima col bosco il cervo la montagna cioè meraviglioso è proprio il mio libro di lui ho letto poco ho ascoltato qualcosa in audiolibro che mi era piaciuto e niente vorrei leggere altro di suo e questo parla di montagna appunto qua dice che ci accompagna per nei sentieri insomma ci fa scoprire i segreti della montagna ci conduce lungo i ruscelli a spiare le minfe dai lunghi capelli d'acqua ci indica il sentiero per raggiungere il grande abete bianco la montagna è viva cinque sensi protesi a conoscere il mondo e come tutti gli esseri speciali ha anche un senso in più la percezione deve essere bellissimo non vedo l'ora di leggerlo comunque questo invece è un libro mondadori eccolo qui credo che abbiano cambiato secondo me l'edizione forse lo trovate ma con una veste un po' diversa comunque questo è il fondo all'interno sono super curiosa adesso li vuole leggere tutti tutti insieme poi altri due libri allora questo era lì in esposizione in realtà è un libro che io avevo in wishlist quindi super contenta è al di fuori di ciò che leggo solitamente perché si tratta di un fantasy e io ne leggo pochissimi di fantasy di crystal suterland le sorelle hollow sicuramente l'avrete già visto perché girava parecchio anche sui social così ma io l'ho l'ho preso ce l'ho preso ce l'avevo in wishlist perché l'avevo visto nei video di silvia a cup of sil che io saluto tantissimo mi piace sempre tanto lei come parla dei libri e abbiamo gusti molto simili e lei ne parlava molto bene e niente quindi sono rimasta veramente super incuriosita appena l'ho visto lì in esposizione ho detto ok mio e non so bene di che cosa parli devo essere sincera comunque vi dirò non so quale leggibile trame dai che è un po' noioso secondo me comunque questo all'interno direi che è abbastanza leggibile ecco l'interline è molto anche i margini sono molto spaziosi e ultimo piccolo 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 di don de lillo anche questo qui ce l'avevo in wishlist il silenzio è edito e in audi allora ce n'erano altri di questo autore ma questo era il più piccino quindi ho voluto prendere questo innanzitutto perché comunque ce l'avevo appunto in wishlist come vi dicevo ne ho comunque sentito parlare benissimo e poi essendo così piccolino magari non so per me meglio come approccio ecco per iniziare a conoscere un autore poi vedremo magari leggerò anche gli altri se mi piacerà questo e questo dovrebbe essere una sorta di di distopico credo però ambientato ai giorni nostri cioè nel 2022 a Manhattan e aspettate ecco sì esatto tutta la tecnologia digitale ammutolisce internet tace i tweet i post i bot spariscono gli schermi tutti gli schermi che come fantasmi ci circondano ogni momento della nostra esistenza diventano neri le luci si spengono un blackout avvolge nelle tenebre la città l'aereo costretto ad si perché parla di una coppia insomma che sono in viaggio in aereo è costretto a un atterraggio di fortuna è l'inizio di una guerra la prima ondata di un attacco terroristico un incidente o al collasso della tecnologia su se stessa sotto il proprio tirannico peso insomma deve essere un po' angosciante anche vedremo mi ispira molto e questi sono stati i libri che ho preso in prestito alla biblioteca e poi aspettate aspettate scusate da una sistemata aggiornamento letture allora ieri non ce l'ho qua da mostrarvelo perché l'ho letto in ebook quindi probabilmente vi metterò la copertina ho finito di leggere appunti sull'esecuzione non mi ricordo l'autrice scusatemi proprio a zero e è un libro ve ne ho parlato cioè ve ne ho parlato ho fatto un post su instagram è una storia un libro bellissimo mi è piaciuto veramente tanto molto insomma dalle tematiche molto forti si parla soprattutto di pena di morte quindi mi fa tanto riflettere su questa tematica ma non solo perché noi praticamente viviamo le 12 ore prima dell'esecuzione di un uomo che ha ucciso tre ragazze ma non viviamo solo questa attesa i capitoli sono alternati quindi vediamo lui appunto nel presente lui che sta aspettando i suoi pensieri i suoi le sue emozioni quello che prova insomma quello che sente ma appunto come vi dicevo i capitoli sono alternati mi sembra tre donne sì perché abbiamo la voce della madre di lui della poliziotta e della sorella scusatemi ma sto pensando i nomi della sorella della sua ex moglie e quindi capiremo un po' la situazione che c'è attorno a quest'uomo sia fin dall'infanzia da quando era piccolino quindi anche qua si parla di una famiglia assolutamente disfunzionale di violenza domestica di violenza di genere e poi appunto si parla della sua vita del suo rapporto soprattutto con le donne è un libro tosto ma dalle tematiche come vi dicevo molto forti che sicuramente fanno pensare mi è piaciuto veramente tanto un libro di quelli che cioè da cui non riesci proprio a staccarti tu vuoi continuare a leggere continuare a leggere capire dove va a parare e secondo me la come si dice la la parte migliore la parte migliore è bello tutto il libro però mi piace tantissimo come hanno descritto il personaggio del protagonista è molto approfondito il lato psicologico mentale veramente bello cioè un libro proprio ben fatto leggetelo mi è piaciuto tantissimo ve lo consiglio tra l'altro su instagram mi avete detto che qualcuno mi ha risposto e è piaciuto a tutti insomma quelli che mi hanno commentato che non sono tantissimi però insomma secondo me ne vale la pena quindi tutto questo per dire che ho terminato quel libro ne ho iniziato e quello era in ebook allora io ho questa cosa questa abitudine magari farò un video anche sulle abitudini di lettura so che ci sono vari tag adesso vediamo se riesco a organizzarmi io solitamente mi gestisco così ho sempre sempre quasi sempre un libro cartaceo in lettura un libro sul cobo quindi in formato ebook e un audiolibro l'audiolibro non ho sempre però cerco di comunque tenere questi tre queste tre tipologie di supporti insomma letterari e c'è anche il motivo il cartaceo perché comunque ho anche tanti libri da leggere i cartacei che mi interessano insomma quindi ovviamente ce li ho li leggo non sono una puritana del cartaceo devo essere sincera io a me basta leggere cioè non non mi interessa tanto il supporto però comunque cioè mi piace ecco tenere dei cartacei mi piace avere la mia libreria e tutto l'ebook perché lo leggo soprattutto per la sera come la lettura serale soprattutto se leggo nel letto perché non mi va di tenere lampade accese insomma anche perché non dormo da sola quindi potrebbero infastidire l'altra persona e il cobo non c'è niente da fare è comodissimo in questo quindi diciamo che il co scusate non il cobo l'ebook lo leggo solitamente la sera ma poi dipende e l'audiolibro perché quando faccio passeggiate quando che ne so il tragitto per arrivare al lavoro ogni tanto lo faccio a piedi quando faccio pulizia in casa quando non ho magari il tempo di mettermi lì per leggere ma voglio leggere allora è l'unico modo è quello dell'audiolibro e devo dire che mi sta dando tantissime soddisfazioni questa era una piccola parentesi sulla mia modalità di lettura solitamente poi non è sempre così poi vado avanti appunto con il libro cartaceo che ho iniziato ieri che è questo di Annie Ernaud io ho già letto ascoltato in realtà l'evento e il posto mi sembra che si chiamasse sì questo qui era La donna gelata l'avevo recuperato usato e lo volevo recuperare da un po' questo libro e l'ho iniziato ieri e sono già quasi a metà un po' meno della metà ma si legge che c'è proprio una meraviglia molto scorrevole e a me lei piace moltissimo come scrive le tematiche che porta questa in particolare è come quasi tutte le sue i suoi i suoi romanzi diciamo non sono proprio romanzi perché sono tratti dalle sue esperienze personali ad esempio nell'evento si parlava di aborto nel posto si parla del padre qui si parla credo perché appunto non l'ho ancora finito del suo rapporto con gli uomini con l'uomo suo marito insomma comunque con l'uomo che con cui ha condiviso la sua vita e però partiamo dall'infanzia quindi lei ci racconta com'era il rapporto uomo-donna nella sua famiglia che è un rapporto in realtà molto diverso e rivoluzionario rispetto a quello che magari lei vedeva dalle sue amichette quando era piccola perché lì non c'erano dei ruoli cioè non è che la donna faceva quello e il marito l'uomo faceva solo quello no lei ha visto suo padre cucinare ha visto suo padre pulire ha visto sua madre occuparsi del negozio della contabilità del negozio quindi diciamo che lei è cresciuta in una realtà molto diversa e anche un po' considerata strana stiamo parlando penso che siamo negli anni 50 se non sbaglio in Francia però nonostante ciò nonostante questa visione così avanti che lei ha vissuto appunto durante la sua infanzia ci viene già spoilerato all'inizio che non l'ha salvata da un rapporto invece non proprio così come si può dire paritario ecco con l'uomo che di cui si è innamorata io sono appunto quasi a a metà e qui ci parla ancora della sua infanzia quindi non sono ancora arrivata a quel momento lì sono super curiosa di andare avanti e niente quindi questo poi altro è un audiolibro scusate devo fare mente locale perché non mi sono scritta niente la mia memoria è pessima un audiolibro che ho terminato invece è di Antonella Lattanzi cose che non si dicono no cose che non si raccontano ascoltato appunto su Audible splendido un ascolto a parte letto benissimo e veramente anche tosto e tra l'altro è un libro candidato al premio strega di quest'anno quindi io volevo recuperarlo anche per quello vorrei recuperare un po' di libri candidati allora come non so se vi ricordate insomma ma di lei avevo già letto questo giorno che è in combe che è un libro che mi è piaciuto tantissimo scusate che mi è arrivato un messaggio e e ci sono dei collegamenti secondo me sono allora questo giorno che è in combe è un romanzo cioè un romanzo tratto da una storia vera ma non è autobiografico invece l'altro cose che non si raccontano è autobiografico e secondo me sono due romanzi che sono collegati soprattutto dalla visione della maternità che incontriamo appunto in questi due libri e io vi consiglio di leggere io non lo sapevo cioè proprio non ero conoscenza di questa cosa ma leggendo poi cose che non si raccontano ho capito tante cose dell'altro romanzo che avevo letto poco prima insomma all'inizio di questo mese quindi secondo me sono comunque cioè si possono leggere ovviamente separatamente però sono vi danno qualcosa in più se li leggete insieme o prima uno o l'altro come vi pare e cose che non si raccontano appunto parla di maternità di una maternità molto sofferta di una maternità all'inizio non voluta di quando lei era molto giovane si parla anche di aborto e poi si parla appunto di ci sono tante tematiche in realtà ovviamente quello che quello che ci viene descritto quella che ci viene descritta è una maternità non idealizzata non è una maternità fittizia non è quella maternità tutto rose e fiori bellissima dove tutto è meraviglioso tutto è speciale sì certo ci sono ovviamente è speciale però ci racconta un altro lato della maternità e che molto spesso è considerato tabù questo altro lato perché se tu madre dici determinate cose passi subito per una madre snaturata una madre che non merita di avere figli una madre una donna che è un mostro quindi insomma tocca a queste tematiche io le trovo sempre molto interessanti vi consiglio l'ascolto sì perché veramente la lettrice l'interprete come si chiama non lo so la figura che ha letto questo romanzo la figura la donna ha una voce molto a parte molto piacevole proprio da ascoltare ma il tono che usa come interpreta anche i dialoghi così è proprio cioè è veramente brava ci sa proprio fare e mi mi sembra quasi di vivere determinate situazioni molto molto bello quindi ve lo consiglio se vi interessa la tematica poi in ebook ho iniziato invece questo ieri sera aspettate che vediamo se si riesce a vedere un attimo la copertina di Angela Carter la bottega dei giocattoli edito da Fazzi Editore questo l'avevo trovato in offerta e questo ce l'avevo appunto lì in wishlist da un bel po' appena l'ho visto scontato in ebook ho detto lo prendo sicuramente e dunque l'ho iniziato ieri mi manca cioè non sono neanche a metà però allora come genere siamo sul direi horror comunque un genere molto inquietante insomma ecco io sono proprio all'inizio quello che so perché poi non ho neanche letto la trama devo essere sincera molto spesso io faccio così non leggo le trame inizio il libro e basta da quello che ho intuito parla di queste di questa bambina in particolare che ha anche dei fratelli due se non sbaglio forse una sorella o un fratello non mi ricordo più che rimangono orfani e devono andare a vivere dallo zio che è l'unico parente insomma che hanno vicino che possa occuparsi di loro questo zio ha una bottega di giocattoli però da quello che ho capito deve essere una cosa molto inquietante e appunto dalle tinte molto credo che sia proprio considerato un romanzo horror questo quindi sono super curiosa di andare avanti adesso perché la scrittura anche qua è molto incalzante e vuoi proprio capire dove va a parare all'inizio io sono ancora all'inizio è successo qualcosa di inquietante e l'autrice è bravissima perché riesce a farti percepire questo disagio questa inquietudine anche se non ci sono scene chissà che spaventose però voi capite che c'è qualcosa che non va e che probabilmente succederà qualcosa di brutto vediamo vediamo vi farò sapere e basta questi sono i miei aggiornamenti di lettura 20 minuti perfetto poi possiamo chiudere questo vlog direi perché dura una vita no dai vediamo vediamo dopo e niente adesso mi metto a mangio registro l'altro video e poi vediamo come andrò avanti non lo so tutto improvvisato a fra poco ciao eccoci allora video registrato adesso fra poco lo edito e poi lo carico 45 minuti di video e ora sono qui con il libro la musichetta rilassante poi ecco luna che si sta lavando quindi adesso andrò un po' avanti con questo libro qui e ci rilassiamo un po' io e luna e ci aggiorniamo dopo eccoci qua sono passate un paio di orette io sono andata avanti parecchio con il libro perché guardate mi manca poco alla fine credo di terminarlo insomma se non stasera di sicuro domani e mi sta piacendo ma ne parleremo non vorrei dilungarmi troppo nel frattempo mi sono anche preparata il tè perché ho freddo che mi scalda un pochino e poi ieri è arrivata la degusta box e c'erano dentro questi sono una roba pazzesca li abbiamo già mangiati ieri il mio ragazzo per merenda e quindi questa sarà la mia merenda ho qui un astuccio e un libro di Stephen King con delle bustine di tè chissà cosa hanno queste tre cose in comune è che ieri o l'altro ieri ho chiuso uno scambio su accio books di questo libro qua di miserie di Stephen King che ho letto l'anno scorso se non erro molto bello però appunto l'avevo messo in scambio e in realtà l'ho scambiato per un altro libro sempre di Stephen King che vi mostrerò appena mi arriverà e mi piace sempre preparare i pacchettini degli scambi di libri come se fossero una sorta di regalo cioè mi piace che l'altra persona quando riceve il pacchettino non so si trovi anche dei regalini così poi vi faccio vedere un attimino come li preparo di sicuro andrò a mettere questi due queste due bustine di tè quindi questo qui ha i frutti e questo ha la menta e poi vediamo un attimino perché ho qui il mio stuccetto pieno di cosine belle adesso vediamo se con una mano riesco ci sono adesivi segnalibri posti cioè di tutto e di più penne colorate quindi vedo un attimino cosa oddio metti a fuoco ok cosa fare e niente qua abbiamo la prova dell'arrivo della degusta box di ieri che ho tenuto per luna ovviamente che si sta divertendo un mondo a saltarci dentro di continuo dove sei luna? fatti guardare oh amore mio luna sta facendo la cucciola tesoro fai il pane eh oh amore guardate quanto è tenera ci vediamo fra poco allora eccoci qua qui ho gli adesivi volevo scegliere uno di questi da mettere dentro il libro e mi sa che è un lui quello con cui ho fatto lo scambio quindi non so neanche se gli piacciono i gatti quindi guardavo se ce n'era uno un po' neutro ecco tipo questo potrebbe andar bene con i libri ma si dai potrei metterci dentro questo poi ho scritto il bigliettino e avevo preso questi segnalibri carinissimi con gli animaletti in cartone adesso scelgo anche uno di questi vediamo se riesco con una mano è sempre un po' un caos ok vediamo un attimino oh che carina la balena però questa potrebbe essere molto carina lo squaletto la cos'è questo boh un osinello uno scicciò eh ce ne sono tanti di carini però dai tanto voglio dire uno vale l'altro ma si andiamo di balena questa mini balena è super carina quindi allora anche questo le tisanine l'adesivo il bigliettino e basta adesso vado a comporre il mio pacchetto scrivo l'indirizzo insomma è tutto così domani mattina vado in posta a spedire a piccolo appunto che volevo fare perché ho detto una cavolata ancora stamattina questo libro qui non è ambientato negli anni 50 ma siamo negli anni 60 inoltrati insomma anche perché l'autrice è nata nel 61 e quindi è la sua adolescenza quindi insomma penso boh forse anche verso la fine eh forse anche negli anni 70 vabbè comunque ecco ho detto una cavolata non sono gli anni 50 ci tenevo a specificarlo e niente adesso vado a comporre il pacchettino finisco la mia tisana e magari ci vediamo più tardi in programma ho di farmi la doccia e forse anche qualcosa di skin care così però non so se vi farò vedere più di tanto perché sennò questo vlog diventa lunghissimo eterno quindi vediamo un attimino a fra poco perfetto pacchettino dov'è chi è qua pronto per essere spedito quindi domani mattina si invia tutto e poi mi sono messa ad aggiornare il mio quaderno delle letture e io non è che faccia chissà cosa quando finisco di leggere un libro semplicemente me lo appunto su questo quaderno e stop l'unica cosa che faccio una volta avevo anche proprio come si chiamano i reading journal ma dopo ne ho completati due o tre però poi era più una scocciatura che altro quindi non faccio più niente e ho trovato questo bellissimo quaderno con arco guardate quanto è bello è bellissimo ovviamente l'ho preso e sto tenendo le letture dal 2021 non aspettatevi nulla di che dentro scrivo semplicemente il mese i titoli con gli autori eccetera tutte le info del libro e tengo proprio segnato con il totale poi dei libri letti durante l'anno mi piace segnare queste cose mi diverte proprio è una cosa che mi rilassa un sacco questo era il 2023 eccolo qua ogni tanto ci metto qualche adesivo così e tengo anche segnato se sono in ebook audiolibro biblioteca cartaceo eccetera dal 2023 ho iniziato no dal 2023 no forse no da quest'anno scusate ho iniziato a scrivere anche il numero delle pagine ecco qua qua erano i libri letti nel 2023 2024 ho iniziato anche a scrivere il numero delle pagine del libro perché vorrei fare dei video magari un po' più incentrati anche su quello tipo libri brevi libri più lunghi e quindi devo ancora farlo però me li me li tengo segnati almeno ci li ho comodi qui qui mi è andato il tè non questa volta l'altro giorno sopra e va bene l'asciugato e amen tanto non deve essere perfetto ha dei visini vari e eccoci qui a il nostro mese di aprile che sta andando molto bene devo dire perché uno due tre quattro cinque sei sette libri ad oggi non che sia una gara però da soddisfazione sarebbe ipocrita dire il contrario e infatti adesso ho appena aggiornato con l'ultimo libro che ho finito ieri quello di cui vi parlavo prima e e niente e quindi questo è quello che faccio per tenere le letture non faccio nient'altro proprio è proprio giusto per tenere una lista e perché mi piace poi magari andare a rivedere un attimino quello che avevo letto per rispolverare un po' anche la memoria e basta eccoci allora sono in bagno come si può notare c'è una luce proprio sparafresciata e io direi che vi saluto direi che facciamo terminare qua questo vlog anche perché mi sa che sarà già bel lunghetto e niente entro in doccia l'unica cosa ultima cosa che volevo mostrarvi farò scrub e maschera perché ho un po' di magari con la luce non si vede magari faccio anche lo scrub labbra che è meglio una maschera labbra faccio un po' di spa e faccio una maschera purificante insomma per il viso perché ho un po' di brufolini qui c'è uno che sta crescendo quindi andiamo un po' a purificare la pelle allora scrub questo qui in crema con i granellini di nocciolo dal bicocca ma l'avete già visto e poi questo qui la maschera che è detossinante perché purificante in crema non ce l'ho ce l'ho sicuramente in tessuto ma volevo farne una cremosa comunque insomma questa e poi vabbè farò scrub labbra questo qua di Kiko che ne ho bisogno perché sono secchissime poi vedo che cosa metterci sopra non lo so probabilmente metterò un burro labbra di quelli che ne ho qua 4-5 aperti niente io vi saluto vi ringrazio avete un po' di riflesso forse vi ringrazio per la compagnia spero di averne tenuta anch'io a voi ci vediamo prossimamente ho caricato il video quello sulle letture di febbraio mi raccomando andate a vederlo perché sono sempre molto curiosa e devo dire che ci tengo tantissimo per quanto riguarda anche gli altri video però quelli proprio incentrati sulle letture sui libri mi interessa proprio sapere il vostro parere i vostri consigli quindi lasciate tanti commenti grazie mi fate contenta felice ciao